Riaprono gli infopoint per i turisti sul territorio comunale di Agropoli. La città si prepara all'imminente stagione estiva. Accoglienza e informazione turistica rappresentano oggi il biglietto da visita di un territorio. Gli sportelli di informazione e accoglienza turistica svolgono infatti una funzione di promozione del patrimonio paesaggistico, storico, artistico ed enogastronomico di una destinazione, fanno sapere da Palazzo di Città. L'amministrazione comunale ormai da anni sta lavorando affinché l'informazione e l'accoglienza turistica sia sempre più professionale, organizzata e funzionale. Ed è per questo motivo che nel tempo sono stati attivati nei punti nevralgici della città diversi sportelli di informazione turistica in collaborazione con le associazioni locali. Gli infopoint presenti sul territorio sono stati posizionati in Piazza della Repubblica, Porto Turistico, Castello Angioino-Aragonese, area naturalistica Trentova-Tresino, lungomare San Marco, zona sottostante la stazione ferroviaria e la stazione ferroviaria. Gli infopoint presenti in città inoltre saranno inseriti in una rete informativa territoriale più ampia che garantirà un valore aggiunto in termini di risonanza delle attività svolte nel Comune e dagli operatori e di forza per tutto ciò che sarà messo in campo grazie alla collaborazione con enti di Valenza sovraccomunale quali l'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, l'EPT di Salerno, l'Agenzia Regionale per il Turismo, oltre a una collaborazione con le associazioni e operatori del territorio e la messa in rete degli infopoint con quelli unionali.